Oggi si parla di sfide nelle malattie infiammatorie croniche intestinali sia nella pediatria che nell'età adulta. La sfida la regione Sicilia la raccolta già da tempo e c'è una rete ben strutturata. Abbiamo il piacere di parlare con il professor Ambrogio Orlando proprio per capire gli sviluppi nuovi, i risultati che hanno ottenuto ultimamente parlando di farmaci e quindi di rete Sicilia sulle malattie infiammatorie croniche intestinali. Allora professore anche qui a Cagliari presenterà dei dati, quali saranno? Sì, noi abbiamo una rete dal gennaio del 2013, abbiamo raccolto in un software tutti i pazienti in trattamento con i farmaci biologici, sono circa 2000 e domani presenterò i dati di confronto tra inflixio e adalivo nel trattamento della malattia di cron moderata grave con dei risultati molto interessanti che dimostrano nella real life che questi farmaci sono equivalenti nel trattamento di questa malattia. Poi presenterò i dati di confronto tra adalivo e golimo in colituccia rosa su 166 pazienti. Qui emerge una lieve migliore efficacia dell'adalivo e del golimo, ma semplicemente per il fatto che il golimo in Italia, in Europa, non può essere ottimizzato al contrario di adalivo, quindi diciamo il golimo paga il prezzo della non ottimizzazione del trattamento, c'è la possibilità di ridurre il trattamento a un dosaggio nel caso dell'adalivo settimanale e nel caso del golimo, ma appunto questo non è possibile. Mi risulta fra l'altro che è stata chiesta all'EMA la possibilità di ottimizzare il golimo e speriamo in futuro che anche questo farmaco possa essere ottimizzato in Italia, che questo possa rappresentare una risorsa per questi pazienti. Infine i dati sul vedolizumab, anche qui su una numerosità importante ai pazienti, circa 200, in cui emergerebbe l'efficacia del vedolizumab soprattutto nei pazienti più fragili, sia nel Crohn che nella colitulce rosa, e una certa efficacia anche nelle manifestazioni articolari correlate all'attività intestinale. Rete Sicilia però non è soltanto analisi sui farmaci, ma ci sono anche tante altre iniziative. Cosa avete in programma? Approfitto di questa occasione e la ringrazio per la domanda, perché proprio in questi giorni stiamo organizzando, in accordo con l'Ordine dei Medici e le società che rappresentano i medici di medicina generale, i cosiddetti medici di famiglia, un incontro con i rappresentanti della rete siciliana, quindi sono i 16 centri, per parlare di PDTA, cioè di percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale delle malattie infiammatorie coloniche intestinali, in maniera tale da consentire ai centri e alla rete di interfacciarsi con i medici di medicina generale, dando la possibilità degli slot, degli spazi, per poter prenotare online, direttamente dai loro ambulatori, le visite dei pazienti che hanno il sospetto di una malattia infiammatoria coloniche intestinali. Questo percorso diagnostico-terapeutico omogeneo in tutta la Sicilia, partiremo con un progetto pilota su 100 medici a Palermo, consentirà nell'arco di un certo numero di anni probabilmente a ridurre il tempo che passa tra l'inizio dei sintomi e la diagnosi, che è uno dei problemi più grossi soprattutto per la malattia di Crohn e questo consentirà un migliore accesso alle cure e una migliore risposta ai trattamenti perché i pazienti vengono trattati in fase più precoce. Quindi miglioramenti sia dal punto di vista del medico che del paziente e per quanto riguarda i costi riusciremo ad avere anche una riduzione? Certo, nel momento in cui la diagnosi viene posta più precocemente e i trattamenti, soprattutto quelli più efficaci come quelli con farmaci biologici, verranno iniziati più precocemente quando ancora la malattia non è complicata ridurrà le complicanze della malattia, quindi le stenosi, le fistole, gli ascessi e quindi gli interventi chirurgici le ospedalizzazioni che sono tra i problemi più importanti e che rappresentano forse la parte più importante dei costi di questa malattia.